Barba Nera, ecco il vero lunario Barba Nera! La data coincide, stranamente, anche con quella evidenziata sull'almanacco Barba Nera trovato aperto sul tavolo da lavoro di D'Annunzio nella Zambracca, in cui reclinò per sempre il capo. Al giorno 1 marzo 1938, sotto l'alunazione di fine febbraio, annunciava infatti la morte di una personalità. Il poeta sottolineò la previsione con una matita rossa. La copia di quel lunario rimase esposta fino a quando non venne sottratta.